Buon tardi, saluto, mio nome è Rex Angelati e benvenuti in studio Baxi. Guardando un invitato che non arriva, spero che poi arriva durante il programma del studio Baxi. Grazie. Per guardare un po' 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 educativo. Si, mi sembra, mi sembra, mi sembra, a mi sembra che non si è educato, ma si preparato al futuro. Si, sicuramente si. Quindi, se c'è molti c'è, si c'è compro l'antapara, stoff, coppia. E poi ti sembra, no, la c'è, l'antapara, stoff, coppia. No, 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 è corretto. Mi sembra educato. Si, come and I, come and it, la cucina di, l'antapara, stoff, coppia, stoff, like, saan, no, problem, no, 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 no. Spero... Si, sicuramente si. Ma sono un opine di molti gray. oggi non è che freina John a me pensano che è una cosa si può tomar tempo si è una cosa a me spero di andare a un strano 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 . Mi chiamo è Xanglar e mi chiamo che è il sottotitoli sono che Grazie a tutti.